Ora, spremi il gaspizio! Aspetta, 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 aspetta! No, 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 a posto, a posto e via! No, non è così! No, no, non lascia il braccio di fuoco qua! C'è abbia l'assicurazione, c'è? Sì, sono venito! Dai, se lo vedi su! Dai, saluta la gambina! Oh, fratello, dai forti, sta fermo! Ah, esasera, fagli un altro spicchio! Ah, esasera, fagli un altro spicchio! Puoi andare sotto? No! C'è qualcuno che ti sta sulle palle, eh? Ne ho! Eh? Ne ho! Ne hai? Portali qua, che ci pensiamo noi! Conceleraggio! Un altro palazzo! Oh, OK! Che, ovviamente! No! Eh? Lecce! Oh! Un altro palazzo! Eh? E, eh? Grazie. Grazie. E' brutto lavoro. Sai cosa facciamo adesso?